Musica Amici di Moto.it siamo in partenza per il Sudafrica Andiamo a provare la nuova Honda Africa Twin 1000 Una moto attesa da oltre 12 anni dagli appassionati Scopriamo con loro perché l'Africa Twin è diventata una moto leggendaria Perché è una delle moto di grossa cilindrata che sopporta le grandi sollecitazioni del fuoristrada Perché ancora oggi è una moto che su strada da grandi soddisfazioni Non è un fulmine ma è ancora attualissima Per la sua grande affidabilità e per la sua robustezza complessiva Perché è l'unica Honda che mi è rimasta nel cuore Scopriamo se l'Africa Twin 1000 sarà una degna erede dei modelli che l'hanno preceduta Ciao 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 a tutti e ben arrivati al nostro topo di film Si sta interni e poi quando siamo a centro fuori Ho bisogno di guardare la nuova presa Siamo arrivati